Il sindaco Adamo Coppola si dissocia dall'operato dei due consiglieri comunali di minoranza che l'altro giorno si sono introdotti all'interno del liceo Gatto sezione classica. Chiedo scusa, afferma il primo cittadino, a nome dei cittadini per il comportamento irrispettoso ed arrogante osservato da due consiglieri comunali di minoranza che l'altro giorno si sono recati presso il liceo Gatto plesso di via Pio Decimo, pretendendo di entrare nella struttura peraltro non di competenza comunale. I consiglieri in questione, anziché dare l'esempio e seguire la prassi che prevede la richiesta di autorizzazione motivata prima di procedere a qualsivoglia visita presso gli istituti scolastici, hanno operato una incursione vergognosa, pretendendo, non si sa secondo quale legge o regolamento, di essere ricevuti e di potersi introdurre nell'istituto nel mentre si stavano svolgendo le attività didattiche, turbandone il normale andamento. Il loro comportamento, corredato anche dall'utilizzo di espressioni non idonee, oltre ad essere stato assolutamente riguardoso nei confronti degli operatori scolastici e dei ragazzi frequentanti, è contrario ad ogni normale e ragionevole regola di educazione e rispetto. Sono solidale, conclude il primo cittadino, con il dirigente scolastico e con tutti gli operatori che sono stati coinvolti loro malgrado nella vicenda.